Ma scusi, ma lei lo sa che se non fossimo, se non avessimo adottato la moneta unica, adesso come minimo saremmo tagliati fuori dal mercato? E lei lo sa che da quando c'è l'Europa? L'Euro? L'Euro? La mia pensione si è dimezzata? E la colpa sarebbe dell'Euro? No, la colpa è sua signorina, che mi ha raddoppiato il prezzo del caffè da un giorno all'altro. Ah, ma non è mica l'unica, lo fa anche il salumiere, il panettiere, il fruttarolo, com'è che lo chiamate qua, ecco quello. No, vabbè, ho capito, ma lei lo sa che un'Unione Europea comunque non vuol dire solo Euro, vuol dire anche un sacco di altre cose. Per esempio? Che cosa fa l'Europa? Adesso non dico per me che ormai sono andato, però per i giovani cosa fa? Guardi qua ad esempio, lega, l'Unione Europea stanzia fondi per gli scambi giovanili.